Eccoci nel dopo partita, siamo con Vuk, il centravanti della Rocca. Ciao Vuk. Ciao e buonasera. Allora, esordio dal primo minuto, bagnato col gol, al primo minuto. Meglio di così? Non si poteva, è vero. Ci ha aiutato un po' il gol che abbiamo fatto dopo il primo minuto, così abbiamo indirizzato un po' la partita. Abbiamo visto una buona squadra di fronte, anche se il punteggio a fine partita del 5-0 è tanto largo, però merito comunque a voi che siete stati in grado di concretizzare molto meglio del solito. Sì, come ho detto prima, quando indirizzi la partita bene, quando la indirizzi bene, alla fine paga perché poi anche loro devono cambiare qualcosa. Noi prendiamo fiducia e oggi praticamente penso che abbiamo sfruttato tutte le occasioni e abbiamo fatto un punteggio importante. Ok, adesso ci dobbiamo rituffare subito in campionato. La prossima sfida con il Vigasio è durissima, però le premesse sono buone per domenica. Sì, diciamo che partiremo con il piede giusto perché un po' di fiducia l'abbiamo presa oggi, stasera, ci resta solo uscire in campo e giocare come stasera. Ok, in buca grazie e in bocca al lupo per le prossime. Grazie. Grazie.